benvenuti su asset management la trasmissione di le fonti tv oggi parliamo della consulenza per i grandi clienti ne parliamo con enrico baccari responsabile della clientela istituzionale di consult invest benvenuto buonasera buonasera noi partiamo da una situazione di mercati che stanno rallentando la crescita di mercati economici ma di mercati finanziari che invece sono molto liquidi quindi vediamo com'è la situazione attuale quali sono le prospettive e poi entriamo a parlare della consulenza ai clienti ai grandi clienti da un punto di vista macroeconomico la situazione vede un rallentamento generale delle economie già si vedeva questo rallentamento sul finire del 2019 poi con l'inizio del nuovo anno la crisi che si è scatenata in cina per effetti del coronavirus fa pensare che la crista cinese possa diminuire di quanto diminuirà non lo sappiamo in questo in questa fase però sicuramente avremo rallentamento e quindi diciamo lo scenario macroeconomico lascerebbe pensare a un rallentamento globale diffuso dall'altro lato però i mercati finanziari godono di questa iniezione di liquidità da parte le banche centrali che è rimasta attiva e quindi di fatto la condizione sui mercati in questo momento è molto favorevole per cui stanno andando bene un po' come era stato per il 2019 sia l'asset class obbligazionaria che l'asset class azionaria quindi questa iniezione di liquidità sta facendo bene poi in generale a tutti i mercati il punto vero è cercare di capire cosa succederà in futuro cioè se la manovra delle banche centrali questa iniezione così forte di liquidità sarà poi in grado di riattivare un ciclo economico che in realtà soprattutto in europa si sta sta rallentando si sta spegnendo questo è il vero interrogativo dei prossimi mesi per cui saranno gli effetti del rallentamento cinese da monitorare con estrema attenzione perché bisognerà capire la risposta della cina è stata molto rapida questa volta rispetto al passato perché durante la crisi della sars la risposta cinese fu più opaca soprattutto in termini di misure economiche perché furono intraprese parecchi mesi dopo per cui ci fu un allentamento abbastanza forte in questo caso sembra che la risposta da parte delle autorità cinese sia stata rapida abbiamo visto la riapertura dei mercati cinesi iniezioni di liquidità molto forte da parte della banca centrale cinese questo è stato un segnale molto forte per i mercati e poi anche da un punto di vista economico si pensa che verranno messe in campo alcune misure quindi siamo in una fase in cui è troppo presto per fare previsioni sicuramente un rallentamento ci sarà ma potrebbe essere meno incisivo rispetto a quella che si pensava in qualche settimana fa quindi possiamo dire che l'incognita maggiore la cina sì l'incognita maggiore la cina perché il contributo alla crescita che la cina sul prodotto interno lordo mondiale è molto forte negli anni è sempre più aumentato perché la cina l'ultimo dato disponibile che abbiamo di crescita è intorno al 6 per cento perché è un dato molto forte poi in passato la cina ha acquisito sempre più quote di mercato è diventato uno degli attori principali della crescita del prodotto interno lordo mondiale per cui se la cina si ferma sicuramente per l'economia globale è un grosso danno quindi possiamo dire che in questa situazione di rallentamento economico però di mercati finanziari molto liquidi qual è la richiesta da parte della clientela e poi dividendolo tra clientele istituzionale e clientela private allora le due clientele sono diverse da certi punti di vista perché la clientela istituzionale è un tipo di clientela che fa della gestione della liquidità una delle attività caratteristiche della propria istituzione che si è su una tesoreria che si è su una fondazione bancaria eccetera la clientela private invece assimilabile alla clientela retail e quindi di fatto sono clienti che hanno un approccio diverso sui mercati finanziari ma vengono chiamati private perché normalmente hanno un patrimonio più importante quali sia poi la soglia del patrimonio dipende da quale controparte lo analizza si parte da un milione da 5 milioni da 10 milioni a seconda ogni ogni SGR ogni banca al suo livello per definire una clientela private le richieste che vengono dalla clientela istituzionale sono richieste di un tipologia di prodotti che siano il meno rischioso possibile e con un rendimento il più garantito possibile cioè sono investitori che sono poco disposti a mettere in gioco il proprio patrimonio e molto spesso hanno delle tempistiche di investimento che sono legate all'anno solare quindi agli effetti che questo investimento avrà sul bilancio dal punto di vista della clientela private invece è una clientela che a seconda dell'estrazione del grado di rischio dell'età e quindi ci sono diverse differenze all'interno della clientela delle aspettative di rendimento generalizzato ma non ha un'idea di prodotto è un tipo di clientela su cui la consulenza deve fare proprio la propria iniziativa deve fare proprio la propria proposta ecco se dovessimo vedere più nel dettaglio qual è la domanda perché la clientela istituzionale probabilmente adesso si sta spostando un po' di più verso le azioni della clientela istituzionale si diciamo che la clientela istituzionale rispetto al passato per lo meno il recente passato mentre l'anno scorso aveva rivolto il suo interesse solo verso il mercato obbligazionario perché il mercato obbligazionario non dimentichiamoci l'anno scorso ha segnato uno degli anni record degli ultimi anni abbiamo avuto performance a due cifre su tutta la componente obbligazionaria quindi era abbastanza facile tra virgolette ottenere un rendimento dal mondo obbligazionario l'anno scorso quest'anno quel tipo di rendimento per effetto della riduzione degli spread sembra più complicato da ottenere sicuramente non avremo dei rendimenti a due cifre perché matematicamente la riduzione degli spread ha portato i rendimenti quasi in tutto il mondo sotto zero abbiamo visto proprio la settimana scorsa il titolo greco scendere sotto l'1 per cento di rendimento quindi tutti i titoli anche quelli che hanno un rapporto debito pi molto alto sono andati in territorio hanno visto un caldo dei rendimenti molto forte per cui è molto difficile dal mercato obbligazionario ottenere dei rendimenti ed è per questo che anche il cliente istituzionale sta cercando nel proprio portafoglio di aprirsi moderatamente verso il rischio azionario per cercare di ottenere dei rendimenti che possono essere in grado di compensare i rendimenti che ci sono stati l'anno scorso il cliente private invece è un cliente che invece aspetta dalla consulenza l'idea su come investire i propri denari quindi si affida totalmente alla società o al consulente per avere una definizione di quella che può essere la composizione del portafoglio per cui su questo tipo di clientela deve essere fatta ci deve essere un approccio dall'alto in cui vada innanzitutto a identificare qual è il grado di rischio di questo singolo cliente questo è fondamentale per poter fare qualsiasi proposta ma si deve tener conto dell'età delle aspettative dal passaggio generazionale da tutte quelle indicazioni che possono darci a noi l'indicazione per poi fare una proposta di investimento questa proposta di investimento deve essere calata in base alle scenari è quello che dicevo prima il mercato obbligazionario ha dato moltissimo l'anno scorso quest'anno è difficile che possa dare un contributo così importante bisogna lentamente rivolgersi verso quelle aree o quei settori soprattutto in termini di asset class mi riferisco al mercato azionario ma soprattutto il mercato azionario in quelle aree che l'anno scorso non hanno generato rendimenti particolarmente interessanti per compensare un po' quella mancanza di rendimento che arriva dal mercato obbligazionario ecco quali sono gli aspetti più critici di questo tipo di consulenza che viene fatta ai grandi clienti ma diciamo che l'aspetto più critico può essere quello che per quello che riguarda investitore istituzionale investitore istituzionale è un investitore che è davanti agli schermi tutti i giorni conosce il mercato vede le vicissitudini del mercato vive la volatilità di mercato quindi tra virgolette un investitore preparato l'investitore invece privato che sia spesso retail o private ha magari una maggiore informazione sul mercato il private rispetto al retail puro però comunque vive il mercato come una condizione che non è la sua condizione di lavoro quotidiana per cui voglio dire gli aspetti di volatilità sono difficilmente tollerati per cui c'è un atteggiamento che è più distaccato rispetto al mercato per cui necessita di una qualità di informazioni molto più ampia. E quanto la tecnologia può aiutare questo tipo di consulenza? Ma sicuramente la tecnologia può aiutare perché la tecnologia consente di avere su un enorme database come può essere il database dei fondi comuni o degli etf o dei titoli che siano essi azionari e obbligazionari può aiutarci nella scelta quindi la tecnologia interviene andando a semplificare tutti quei processi decisionali perché attraverso la tecnologia posso avere da un portafoglio che è fatto per esempio di 56 mila fondi comuni come sono tutti i fondi comuni che esistono in questo momento sul mercato chiaramente posso estrarre un portafoglio più ridotto per arrivare poi a un portafoglio che è fatto magari di 30, 40, 50 fondi che fanno quello che potrebbe essere la composizione di un asset allocation ideale per un cliente quindi la tecnologia serve in tutte quelle fasi di scelta di decisione strategica o tattica per aiutare poi chi è il gestore o il consulente finale nella scelta del portafoglio che si adatta al cliente. Tra l'altro adesso con tutti i nuovi sviluppi si potranno avere anche delle informazioni molto accurate sul mercato e quindi aiuterà anche a costruire dei portafogli molto personalizzati. Sì sicuramente la quantità di informazioni che il mercato oggi ci dà è enorme perché abbiamo delle agenzie di informazioni tipicamente che danno informazioni sul mercato riguardo le quotazioni, i prezzi, lo stacco dei dividendi, le operazioni societarie a tutte quelle informazioni che sono non di natura finanziaria ma di natura economica che ci provengono poi dagli organismi sovranazionali per cui c'è una quantità di informazione molto ampia. Bisogna stare però molto attenti perché quando c'è una quantità di informazione così ampia si insinua spesso la cattiva informazione o le cosiddette fake news. Abbiamo visto anche nella recente crisi del coronavirus in Cina quante fake news sono arrivate sul mercato. Lo stesso caratterizza spesso anche i mercati finanziari. Quindi il nostro compito è cercare di filtrare il più possibile queste cattive informazioni e cercare dalle buone informazioni che invece reperiamo dagli organi ufficiali di trasmettere al cliente quelle che sono le informazioni necessarie per poi comporre il suo portafoglio e per fare in modo che il suo portafoglio poi abbia una rispondenza con quelle che sono le situazioni sia economiche che finanziarie dei mercati. Quindi le fonti dalle quali voi prendete tutto questo tipo di informazioni quali sono? Sono le fonti ufficiali. Abbiamo chiaramente tutte le agenzie che ci forniscono le informazioni sui mercati finanziari e sono quelle molto note, più abbiamo tutta una serie di informazioni che vengono invece dall'estrazione dei dati di bilancio delle singole aziende dove lì utilizziamo la tecnologia per avere un sunto. Per esempio identifichiamo un settore, il settore automobilistico. Nel mondo è fatto di decine di case automobilistiche, decine di bilanci, decine di trimestrali. Bisogna fare un sunto per avere un'idea di qual è la miglior casa automobilistica o le migliori case automobilistiche. In questo caso intervengono gli strumenti di informazione ma soprattutto una tecnologia che sia in grado di filtrare questa mole di informazione che è enorme per avere dei dati sintetici. dati sintetici che fanno sì che si crei una decisione di investimento per poi comporre con quei titoli o quei fondi l'asset ideale del cliente per poi portare la proposta finale di un portafoglio al cliente. Quindi tra gli aspetti critici abbiamo individuato sicuramente l'effetto di user quindi stare attenti al tipo di informazione che viene utilizzato. E poi che altri aspetti critici ci possono essere in questo tipo di consulenza? Diciamo che c'è necessità di avere una grande crescita professionale del singolo consulente perché chi si interfaccia con il risparmiatore che sia esso un retail, private o anche istituzionale ci sono le varie categorie deve avere una consulenza tecnica molto adeguata perché in Italia in modo particolare soffriamo di un difetto riguardo la cultura finanziaria del singolo risparmiatore che fa sì che per esempio in questo momento nonostante siamo a tassi zero, sotto zero ci sia un'elevata liquidità degli italiani depositata sui conti correnti. E questo è un segnale di una cultura finanziaria che manca perché viene ritenuta la liquidità come una fonte sicura e in realtà in questo momento è una fonte che non è così sicura perché comunque ci sono dei rischi anche nel lasciare la liquidità nelle banche abbiamo visto in passato le banche sono state oggetti di risturazioni e quindi alla fine quando io lascio la liquidità su un conto corrente ho comunque un rischio emittente che sto in qualche modo comprando e soprattutto nel cercare quelle che sono le alternative a questa liquidità non investita perché in questo momento la liquidità è a zero o sotto zero perché i tassi sono sotto zero per cui la liquidità non è remunerata. L'alternativa deve essere ricercata negli strumenti che ci sono di risparmio gestito e quindi ci vuole, bisogna avvicinare il piccolo risparmiatore sia esso piccolo o grande verso questi strumenti con una conoscenza per cui c'è necessità di una grande crescita della cultura finanziaria del piccolo risparmiatore o del risparmiatore in generale. Credo però anche da parte del consulente ci sia questa necessità di avere una formazione continua e anche molto forte. Assolutamente, una delle più grandi sfide del prossimo futuro sarà proprio nella crescita dei consulenti, siano essi i consulenti finanziari, quindi gli ex promotori o siano i consulenti che lavorano all'interno delle banche. C'è necessità di avere sempre un'asticella che si alza di più per aumentare la conoscenza che poi viene trasmessa al cliente e fare in modo che questa cultura finanziaria diventi una cosa diffusa perché all'estero funziona proprio in questo modo. cioè nei paesi per esempio per citare un esempio i paesi anglosassoni quindi gli Stati Uniti o Gran Bretagna questa cultura finanziaria negli anni è cresciuta. Come è cresciuta? Per iniziative governative di grande informazione che hanno portato anche il piccolo risparmiatore a conoscere quali sono i rischi ma anche le opportunità che ci sono nei mercati finanziari e questo fa in modo che il risparmiatore possa trarre le sue conseguenze però correttamente informato. Per cui c'è necessità di alzare costantemente la formazione dei consulenti perché abbiamo bisogno per le sfide poi ci aspettano soprattutto alla fine di un decennio che è stato particolarmente positivo per i mercati finanziari che la corretta informazione venga portata da consulenti che hanno un'adeguata formazione tecnica. Quindi questo però implicherà anche sia una strategia anche politica verso un accrescimento della cultura finanziaria ma anche degli investimenti da parte delle società di formazione. Sì, dal punto di vista governativo devo dire che in questi anni sono state fatte molte iniziative per aumentare la cultura finanziaria quindi i governi si stanno muovendo nella direzione giusta per cui c'è un'attenzione molto forte verso la crescita della cultura finanziaria bisogna fare ancora di più, bisogna portare la cultura finanziaria nelle scuole bisogna investire molto nella formazione anche di quelle che sono le fonti da cui reperiamo noi i dati, c'è anche la corretta informazione su quello che accade sui mercati è una cosa importante e questa trasmissione per esempio sta contribuendo a questa cosa. Però dal punto di vista delle società ci deve essere un investimento molto forte nell'aumentare sempre la competenza dei propri consulenti nelle persone che si interfacciano con il risparmiatore per fare sì che poi tutta questa cosa contribuisca a formare una cultura finanziaria che sarà vincente per i prossimi anni, soprattutto anni in cui magari la volatilità torna e il risparmiatore rischia di essere frastornato come è stato nelle recenti crisi. Quindi possiamo dire che adesso vengono richiesti investimenti in informazioni, investimenti in tecnologia e questo porterà anche a una concentrazione degli attori nel mercato? Sì, diciamo che già la normativa MIFID 2 che è entrata in vigore qualche anno fa sta cambiando radicalmente questo mercato, questo mercato ha necessità di operatori molto preparati sia da un punto di vista tecnologico ma da un punto di vista formativo perché le sfide che già la nuova normativa ha portato nelle società sono sfide che hanno aumentato di molto quella che è la produzione tecnologica di informazioni anche che viene data al cliente. Oggi abbiamo una trasparenza sui costi dei prodotti che vengono collocati ai clienti che non si vedeva qualche anno fa per cui tutto sta andando nella direzione di aumentare non solo la cultura finanziaria ma soprattutto la trasparenza, cioè la trasparenza da parte delle società prodotto nel evidenziare quelli che sono i costi e le commissioni verso la clientela finale. Tutto questo porterà un processo di trasformazione positiva e sicuramente però richiederà operatori che investono molto nella crescita tecnologica, nella crescita culturale dei propri consulenti e in tutte quelle modalità di erogazione del servizio che siano il più trasparente possibile ma soprattutto il più economico dal punto di vista degli investitori finali. Poi porterà anche una maggiore competizione anche con società internazionali. Sì, infatti la competizione oggi non si svolge solo come in passato sull'andamento dei singoli prodotti che le controparti hanno da proporre alla clientela finale ma anche sulla trasparenza, sui costi, sui benefici che il cliente finale ha, su tutto quello che è chiamato il servizio. Per cui non è più solo l'erogazione di un prodotto fino a sé stante ma tutto il servizio che col prodotto ci va. E per servizio intendo anche la consulenza e quindi quanto io come controparte posso fare consulenza finale al mio cliente. Quindi non gli sto solo collocando un prodotto da banco e quindi dico compra questo fondo o questa gestione patrimoniale ma ti sto dicendo oltre a questo fondo ti faccio una consulenza magari sul tuo portafoglio una consulenza più allargata e soprattutto una consulenza che sia di tipo patrimoniale, di pianificazione successoria, cioè fornendo tutti quegli strumenti che poi servono al cliente per comporre le sue decisioni che sono decisioni di vita. Quindi possiamo dire che anche come ulteriore sfida è quello proprio di allargare il più possibile il campo di conoscenza per la consulenza. Esatto, la consulenza diventa fondamentale e devo dire che le società tutte stanno investendo tantissimo nella consulenza e soprattutto in quei meccanismi che rendono la consulenza più fruibile per l'investitore finale. Cioè dire, la consulenza deve servire a dare delle direttive sulle scelte che il cliente fa ma devono essere scelte trasparenti, informati, che devono tener conto del grado di rischio, dell'orizzonte temporale, di tutte quelle informazioni che una volta in passato venivano trascurate e qui il cliente cadeva spesso oggetto di qualche asset allocation che non era quella giusta per il suo patrimonio, soprattutto per la sua età o per il suo grado di rischio. Oggi queste cose dovrebbero essere sventate, devo dire che da parte degli organi di vigilanza, da parte delle società c'è stato un grande sforzo in questo senso, anche le normative europee che sono entrate in vigore qualche anno fa stanno aiutando, per cui la strada che si è intrapresa è una strada che dovrebbe essere molto positiva. Bisogna continuare a rimanere su questa strada, cioè nel contenimento dei costi finali per il cliente, nella trasparenza e soprattutto nell'informazione. Partendo sempre dal punto fondamentale che deve essere il cliente, deve essere analizzato nella sua intierezza, tenendo conto quali sono le aspettative del cliente. Se noi rispettiamo le aspettative del cliente, contenendo i costi e con una grande trasparenza, sicuramente avremo degli effetti positivi sia sul cliente stesso, ma anche per le società che propongono questi prodotti e questa consulenza. Bene, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Ringrazio molto Enrico Vaccari, responsabile della clientela istituzionale di Consult Invest e arrivederci a tutti qui su Asset Management di Le Fonti TV. Grazie. Grazie a tutti.